Terremoto in Giappone, oggi, 5 ottobre 2023. Un terremoto di Mayroth 6 si registrò alle 11 ora locale, erano le 4 ore in Italia, frente alla costa dell'arcipelago japonese delle isole Isu, e si emitiò un avviso dei possibili tsunami. Secondo dati dell'Istituto Nazionale Italiano di Geofisica e Vulcanologia, INGV, e del Servizio di Vigilanza Geologica Estadounidense, il terremoto trova un ipocentro a 15 km di profondità e un ipocentro al suroeste della isla di Torishima, sempre in Giappone. Sempre in Giappone. Perdonemi per il negativo spagnolo, ma io sono italiano, ma ho studiato 5 anni di spagnolo, qui in Italia. Grazie e un saluto a tutti e a tutte.